Ragazzi, ragazzi, ho avuto l'idea geniale! Ok, finalmente! Il problema della chest! Assolutamente, certo, ci stavamo pensando tutta la notte! Vi avete dato l'idea? Con Mission Impossible, avete presente? Avevamo parlato di tutte quelle cose! Sì, certo, sì! E ho trovato lui! Lui? Espy, dove l'hai preso? Ve lo presento! Come si chiama? Ma io vorrei dargli un nome, no, in realtà non so il suo nome, però ha uno scopo molto utile, mi permetterà di raggiungere la chest in barba a tutti i vostri metodi scientifici, il mio sarà il migliore! Come al solito! Espy, che è combinato! Cioè, perché ho preso questo povero maialino? Ragazzi, venite un attimo! Venite un attimo! Qua, 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 qua! Funziona così! Allora, no, no, lasciatelo lì! Secondo me, la lava di sta funzionando male! Secondo me è pazzo! Quindi, lasciateli fare questo piano, perché, ragazzi, secondo me, se gli diciamo che funziona, è gravissimo! Quindi, lasciateli fare il piano! Cos'è che state dicendo? Vai, Espy, è il piano più bello del mondo! Espy, che è un piano perfetto e geniale! Vai! Andiamo, andiamo a farlo, andiamo a farlo, Espy! Allora, quindi come devi fare? Spiegaci come funziona! Allora, facciamo così! Il maialino mi sta guardando terrorizzato! Io ve lo dico! Vai! Ok! Qualcuno mi può spingere, grazie! E ho bisogno di un po' di aiutanti! Luca, pensaci tu! Ce l'ho fatta! È così vicino! Ma sta facendo il bungee jumping, ragazzi! Non lo so! Sta facendo il bungee jumping! Da un po' di pazienza, dovremmo smetterla! Anzi, mi date una mano! Espy! Arrivi alla sua, Espy! Espy, ma ci arrivi alla cesta! Che è che mi dà una cordelastica, dannazione! Ragazzi, ragazzi, tornati qua, ragazzi! Venite, venite, venite! Ma porca! Allora, io però ho detto che gli sta facendo male il caldo! Secondo me è meglio lasciarlo lì! Eh, io non saprei come recuperarlo! Sta continuando a fare le bungee jumping! Allora, Espy! Espy, andiamo a comprare qualcosa al market! Ti veniamo a prendere tra cinque minuti, va bene? Ma un agio, mi sto prendendo la nausea! No, tranquillo, tu resisti! Ti veniamo a prendere tra un po'! Ciao, a dopo! Ok, ora che siamo solo noi tre dovrebbe essere tutto più semplice! Lo sapete che ogni volta ci fa perdere un sacco di tempo! Eh, a voglia, a voglia! Quando guardate, facendo così era tutto più semplice! Stralettina! Ragazzi! Che succede? C'è Espy! È riuscito a scendere! Ciao! Ma come? Guardalo! Che sono più vicino! Lo vedi, Fede? Ma non lo vedo perché ci sei tu! Ma Espy, come hai fatto? C'è ancora il maialino che sta a girare! Ha ragione! Sì, sono sceso dal maiale! Sono arrivato su questo pilastro! Guardalo! Guardalo! No ragazzi, io non ci credo che il suo piano ha realmente funzionato! Ha senso nel mondo questa cosa! Sta arrivando la cesta! È arrivato! No, io non ci credo! Io non ci posso credere! Dai, lo lascio aprire a te questa cesta! Sì, ma noi non sappiamo neanche come arrivare! Queste finestre non sono una buona idea! Dovremmo arrivare alle finestre da quella parte! Eh sì, non è una buona idea questa! Vi guido io! Vi guido io! Luca, quanti blocchi hai? Io ne ho troppi pochi! Sette! Io ne ho undici! Fede, devi fare tu la stradina verso quell'albero! Vai, Fede! Vai, Fede! Forza, forza, forza! Aiuto, non lo voglio fare! Pensa al fatto... Bell'idea, Luca! Tu ne hai un trefe quello! Che state facendo? Sta scavando tutto! Era l'idea migliore, forse! Ha ragione, Luca! Fede, torna indietro! Torna indietro! Mi hai fatto sprecare tutti i blocchi! Scusami, Fede! Vabbè, vabbè! Scusami! Buongiorno! Buongiorno! Ciao! Poi pensate al maiale! Io recupero questo e il libro magico! Ok! Però, secondo me, e secondo me se siete tutti d'accordo, dobbiamo darlo ad espi! Sì! Se lo merita, lo deve tenere lui! Io so che me ne pentirò, però glielo dobbiamo dare! Assolutamente! Tieni, Espy! Ma puoi dare la mela che almeno è commestibile? No, Espy! Ma vuole sempre mangiare, Espy, basta! Adesso faccio la mela e la riempio di veleno! Sì! Così quando la mangia colla! Ficca attivo che sei! Il maiale se n'è andato, è andato in vacanza! Eh, non ho niente in mano io, niente! Ok, ok! È andato in vacanza! Secondo me è uno su tre perché uno lo tiene a Espy e quindi non arriverà fino al punto finale! Però, adesso, Espy, non fai ridere! Non si scherza su certe cose! Ascoltatemi un attimo, dobbiamo arrivare al castello! Il discorso è, credo che siamo parecchio distanti! Quindi dobbiamo un attimino tornare in alto e vedere quanto dista! Esatto! Ma è lontanissimo da qua! Eh, manca ancora tanta strada! Ragazzi, lasciamo tutto ad Espy e mandiamo lui da solo? Sì! Alla fine con la lava si vive bene nel villaggio! Cioè, non dà fastidio a nessuno! Anzi, c'è più silenzio perché sono tutti scappati! Dai, andiamo! Non perderti in ciance! Su, buttati! Ma da qua, Fede! Buttati! È vero! Ironimo! Ho perso la metà dei cuori! Criminale! E tu, se no qui non la finiamo più! Eh beh, allora ti buttavi tu! 20 anni qua! Ma ci stiamo 20 anni e non finiremo mai! Luca? Allora, il terzo oggetto dove pensate che sia? Ovviamente al castello, Fede! Ovviamente al castello! Sì, sì! Non ho neanche un dubbio! Non ho neanche un dubbio! Sì, sì, sì! Passiamo dagli alberi! Uh, ma qua possiamo fare un sacco di parkour! Però state attenti! Perché questi blocchi vi fregano! Lo sapete che io sono cascato come una pera! Quindi è pericoloso! Allora, quindi... Piano piano di qua! Dobbiamo stare un po' attenti! Qua c'è un buchettino! Attenti, eh! Attenzione! Attenti! Ok, perfetto! Sì, ce l'ha fatta! Ok, allora facciamo in questo modo! Ok! E si inizia a entravedere come si deve il castello! Adesso da qua! Noi possiamo fare così! Ok! Guardate dove sono andato! Uh, guarda che Steph! Ma da qua non c'è la lava! Possiamo sfruttare le mura per avvicinarci! Oh no, ma io ho paura di queste cose! È la zona migliore, è la zona migliore! Ok! Un po' di strada semplice finalmente! Era tutto così complicato! Oh che bello! Ragazzi! Finalmente! Di, di! Cosa c'è? Cosa c'è? C'è il ponte del castello tutto con la lava! Oh no! Oh caos! Ma è arrivata fino a lì! Non ci credo! E ovviamente il ponte è l'unico modo per arrivare al castello! È un problema! È ovvio! Io non ho nessun altro maiale da usare! Come facciamo? Espi, quello è un bene! Quello è un bene! Anche perché è finito male il tuo maialino! L'esperimento quindi! Diciamo che è meglio non utilizzarne altri! Allora, ma dobbiamo scendere! Come funziona? Allora, possiamo passare nel bordo! Nel bordo, vedi? Nel bordo ce la possiamo fare! Però come scendiamo di quota da questa torre? Eh, da qui giù secondo me! Scaviamo? Dobbiamo fare una stradina però! Aspettate! O scavare o fare una stradina! Io sto creando una specie di minierina per arrivare! Ragazzi! Che succede? È arrivata più la lava! Sapete? La lava è arrivata fino a qua! Oh no! Devo creare una strada ma siamo davvero vicini alla lava! Tanto, tanto, tanto! Oh mamma mia! State attenti mi raccomando! State attenti! Che anzi! Ok! Ok, io qua cammino piano piano piano! Mamma mia! Uh dai! Questa dovrebbe essere una parte abbastanza facile! Si vedono le scintilline! No, Espy! Ci sono dei salti da fare! Ci sono delle cascate di lava! Ci sono cascate di lava! Ma metti un blocco! Scusa, tappala! Va bene! Scusa, perché rischiare quando siamo vicini alla fine? Allora, aspetta! Fatemi tagliare questi pali di legno che sono in mezzo alle scatole! Ok! Ok! Ok, devo bucarne altri! Andiamo, andiamo, andiamo! Siamo vicini! Ce la facciamo! Siamo vicini! Uh! Non me ne ero accorta! Atenti, attenti, attenti! Atenti, attenti! Ce n'era un'altra! Non si vedeva! Questa però io la salto! Siamo dalla parte sbagliata! Eh, già! Io te lo stavo per dire prima, ma dopo... No, Steph avrà pensato a tutto! Facciamo un ponticello per arrivare dall'altra parte del ponte! No, Fede, perché anche adesso... Eh, ma scavi poi! O sarà tutto, tutto, tutto? Non lo so! Come non lo sai? Io posso fare giusto una stradina qua! Che possiamo utilizzare! Io provo a scavare, però... Eh, proviamo a scavare! Magari troviamo qualche... No, è tutto bucato! Io metto un po' di blocchi, però non me ne sono rimasti molti, eh! Posso faremo salire verso l'alto? Che dici? Ve lo dico! No, 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 no! Continuiamo così, Espy! Continuiamo così e poi decidiamo dove salire tra un po'! Mi sembra la cosa migliore! Allora, Fede, tu stai un po' scavando, quindi qualche blocco lo recuperi e andiamo avanti così, no? Eh, Espy! Guarda! È spettacolare questa cosa, vado anch'io di blocchi! Avete qualche idea? Cioè, dobbiamo salire sprecando meno blocchi possibili, perché io vi dico... Ho qualcosina in legno, ma mi sono rimasti giusto 5 di stone! Io ho 8 blocchi! Espy, tu quanti ne hai? Io ho un bel po' di blocchi di legno! Eh, ma... Il legno... Eh, esatto! Quindi di stone quanti ne hai? Quanta? 9, ok! Fede 8, io 5, Luca? Eh, 1! Ok, bene così! Wow! Allora, io inizio a creare la stradina e poi la continuo a Espy! Va bene? Ok, vai! Attenti! Io la faccio... Guarda, metto dei blocchi in più per sicurezza, perché non voglio vedere nessuno morire alla fine! Quindi facciamo tutto così e saliamo qui sopra! Allora, buco tutto! Aiuto, 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 aiuto! Espy, ci dobbiamo dare il cambio! Sei pronto? Ok, pronto! Vai, vai al posto mio! Non so come fare! Aspetta, vai! Aiuto! Aiuto, mamma mia! Ok, vai Espy, vai Espy, vai Espy, vai Espy! Ma perché c'è Luca qui che sta scavando? Ma Luca, da dove sei passato? Qui c'era un tunnel! Ho solo spaccato un blocco e c'era un tunnel! E perché non c'hai avvisato? Luca ha detto... E mi stavate divertendo! Mi tiro e me lo vedo qua! Ma abbiamo finito tutti i blocchi! Luca, ci potevi avvisare? Ok, ce l'ho fatta! Ero convinto che fosse dietro di noi! Ok, ce l'ho fatta! Sali! Ce la potete fare! Aspetta, sali Luca, sali! Ciao ragazzi! Ciao! Ecco! Allora, adesso guardiamo dall'alto e cerchiamo di capire dove potrebbe essere la cesta! Credo di averla vista! Ma quella? Però c'è anche un cartello! C'è un cartello, quindi per forza deve significare qualcosa! Ok, teoricamente... No, Espy! Ah! Perché dovremmo avercelo? Perché dovremmo... Scusa, venite da questa parte, dai, venite! Allora! Iniziamo a fare il giro! Spera, ma... Espy, se lo porti sempre dietro allora ce l'hai... Anche adesso! Oggi me lo sono dimenticato a casa! Ecco, vedi? Quindi non ce l'hai mai! Verso sinistra! Ci perdiamo qui all'interno del cartello! No, no! Bucate! 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 Così! Vedi? Ok, ok! C'era la porta! Non è vero! Va beh, Luca! Basta però! Deposita qui... Deposita qui i tre oggetti magici se tu vuoi sopravvivere! Ok! Però, ragazzi... Qua non c'è nulla! Allora, Espy, inizia a mettere il libro magico così almeno siamo sul sicuro! E questi due li abbiamo messi! Tu metti la mela, dai! Metti la mela! Io l'ho già messa! Ok! Vai, Espy! Ok! Ok, due oggetti su tre! Il discorso è... Dobbiamo esplorare tutto il castello? Chi è che ha rubato un'armatura? Fere ha distrutto una statua! Fere! Guardatela! Non io! Vuole diventare il re del castello! Già che ci sono! Allora, so io cosa farei la gente! E vi regalo questo per mettere i vostri vestiti sporchi ormai e bruciacchiati! Tieni, Espy! Appenditi! Ok, qui alla sinistra c'è la torre più alta di tutto il castello! Quindi, teoricamente, la cesta sarà lì! Però, per arrivarci, dobbiamo fare una sorta di parkourino! Allora, io ci provo! Vai di parkour! Ok, 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 io ce l'ho fatta! Espy, ci puoi riuscire! Non è vero, non ci crederò mai! Se ci riesci, guarda, sarà sicuramente un sogno! E tutto questo non sarà reale! Ok, allora, io ce l'ho fatta! Espy c'è riuscito! Vuoi che ti dia un pizzicotto per controllare il suo sogno? Ragazzi! Espy, smettila! Fere si è incastrata nei paletti! Dai, ce la vuoi fare! Dove hai detto? Sta salendo sulla torre più! Allora, allora! Lasciami! Qua non ci sono! Dove siete andati adesso? Allora, siamo saliti sopra la torre! Ma perché mi lasciate indietro? Dove siete? Sto cercando la cesta, però per adesso non c'è! Sì, voglio prenderlo io, l'oggetto magico finale! Voglio io la gloria! Ne ha già preso uno, Espy, non va bene! Ragazzi! Ma non c'è neanche qui sopra! Sono tutto su, non c'è nulla! Come no? Non c'è minimamente nulla! Però si vede un sacco di roba! Ragazzi! Ma da dove sei? Come ci sei finito? Espy, mi vedi? Sì, ti vedo! Guarda questa cosa! Che cosa? La vedo! È una trappola? È una trappola per me, è vero? No, Espy! È una cesta! Ma lì c'è una cesta! Dove noi abbiamo fatto la scala? C'era la cesta e non ce ne siamo accorti! Ma no, davvero! Noi abbiamo costruito sopra la cesta! Ma vado a controllare se è lei? Sì, 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 vai tu, vai tu! Io non voglio scendere sotto! È proprio lei! È proprio lei! Davvero, eccomi! Battaglia! Oddio! Dove siete? La sai che ci tengo a prenderla! Ok, ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! C'è l'ho! La gloria è tutta per te! Espy, ma che fai? Mi stai chiudendo dentro! Ok, lasciavolo lì! Hai preso l'oggetto, Espy? Non ce l'ho io! Non ce l'ho lui! No, ma dai! Mi prendo a Stefano! Se vuoi sopravvivere devi trovare questi oggetti, ma scusa, rimanere così in mezzo alla lava non mi sembra sopravvivere, quindi ci deve essere una soluzione! Sopravvivere vuol dire morire, Fere! No, non è proprio così! Quindi dici che c'è qualcos'altro? Sì, sì, secondo me sì! Questo blocco arancione che magicamente è davanti alla cesta... Eh, in effetti non ci abbiamo fatto caso! Potrebbe essere la soluzione di tutto! Che sembra una croce! C'è una cesta! C'è una cesta! Allora, ci sono dei sicili d'acqua! Prendetene uno a testa! Ok, prendetene una testa! Preso, preso, preso! Ok, ok, ok! Secondo me dobbiamo spegnere un po' di, diciamo, di lava del ponte! Che dite? La fonte! Mi sembra... Questa lava! Dici che è la fonte? Secondo me sì, perché diciamo che dal castello in un villaggio parte tutto! Quindi teoricamente... Allora, io provo a metterlo, dopodiché lo mettete anche voi! Va bene? Vado? Piano! Ok! Ok, 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 ok! Io ho spento un pochettino! Vai, Espy! Aggiungi il tuo! Aggiungi il tuo! Ok, bravissimo! Esattamente quello che volevo fare! Continuate a prolungare, continuate a prolungare! Espy invece ha filato, come sempre! Non è vero! Era fatta apposta! Ok, dai! Era un gioco di squadra! Ok! Ancora, 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 ancora! Chi manca? Io l'ho messa, io l'ho messa! Togli la pedroca che mi sta trascinando giù! Togli la pedroca! Aspettate! Aspettate! State rischiando di morire! Ok, l'ho tolta, l'ho tolta, l'ho tolta! Espy! Vai! Vai! Ma chi è che ce l'ha ancora? E lì ce n'è un altro! Penso Luca! Io volevo spegnere qua il ponte! Vai! Dai, vai, vai, vai! Vai Luca, vai Luca, vai Luca, vai Luca! Perfetto! Ok! Secondo me, questo darà una mano in qualche modo! Non so neanche io come, ma credo che funzionerà! Ragazzi, secondo voi sta succedendo qualcosa? Non capisco! Non lo so, siamo saliti qua per vedere meglio, però non vedo niente di strano! Oh mio Dio, ha visto? Un fulmine! Un fulmine! Cosa sta succedendo? È scomparso tutto! È tutto scomparso! Non ci posso credere! Siamo salvi! Ce l'abbiamo fatta! Possiamo tornare a vivere! Yeah, facciamoci! Però, chi si tiene il castello? Ah, io? Ovviamente! Lo dividiamo, dai, lo dividiamo! No! Ho perso un porcellino qui! Luca, butta giù Espy, butta giù Espy! Siamo stati tutti bravi! Vai Luca! Non è giusto! Non mi interessa! Non c'è spazio per Espy in questo castello! Dov'è? Dov'è che lo voglio picchiare? Vieni qua! Vieni qua! Ah, io! Ah, io! Voglio picchiare stesso! Ma chi ha messo l'acqua? Siamo stessa! Voi non entrate! Spero che si riesce a sentire un like! E se la prima volta che vi vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.